Maria custodisca quest'anno e porti la pace di suo figlio nei cuori e nel mondo. Il messaggio di Papa Francesco alla 51esima giornata mondiale della pace. Il pensiero all'Angelus per tutti i migranti. Un anno segnato dall'impegno sinodale per dare efficacia pastorale all'annuncio. La sintesi del vescovo Alte Deum da Monsignor Tanasini l'invito ad approfondire i contenuti della legge sul Biotestamento. Un 2018 che si apre all'insegna della neve in Val d'Aveto festeggiato il primo capodanno al rifugio delle casermette del Pena dove sono arrivate persone da tutta Italia. Fiocchi azzurri al reparto di neonatologia di Lavagna. L'anno vecchio si è chiuso con la nascita di Francesco. Il 2018 è stato salutato dal vagito di Federico seguito a poche ore dalla piccola Alice. Capodanno in piazza nel Tiguglio. La pioggia non ha rovinato la festa per tante persone fra Moneglie e Portofino. A chiave a risuccesso per la zabaglionata a favore del villaggio del ragazzo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13 e buon anno a tutti voi. Il nuovo anno si apre nel nome della Madre di Dio. La Madre, firma d'autore di Dio sull'umanità, custodisca quest'anno e porti la pace di suo figlio nei cuori e nel mondo. È quanto ha sottolineato Papa Francesco, presiedendo nella Basilica Vaticana, la Santa Messa nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, per la 51esima giornata mondiale della pace. Il servizio del Centro Televisivo Vaticano. Il nuovo anno si apre nel nome della Madre di Dio, è quanto ha affermato Papa Francesco, presiedendo nella Basilica Vaticana, la Santa Messa nella solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, e per la 51esima giornata mondiale della pace. Nella sua madre il Dio infinito si è fatto piccolo, l'uomo, ha detto il Papa, non è più solo, ma è più orfano. L'anno si apre con questa novità. E noi la proclamiamo così, dicendo Madre di Dio, è la gioia di sapere che la nostra solitudine è vinta, è la bellezza di saperci figli amati, di sapere che questa nostra infanzia non ci porta mai a essere tolta. È specchiarsi nel Dio fragile e bambino, in braccio alla madre, e vedere che l'umanità è cara e sacra del Signore. Perciò servire la vita umana è servire Dio e ogni vita, da quella nel grembo della madre, a quella anziana, sofferente e malata, a quella scomoda e persino ripugnante, va accolta, amata e aiutata. E nel primo Angelus del nuovo anno il Papa ha ricordato il ruolo speciale della Madre di Dio. La Vergine ci fa capire come va accolto l'evento del Natale, non superficialmente, ma nel cuore. Ci indica il vero modo di ricevere il dono di Dio, conservarlo nel cuore e meditarlo. Invitando tutti a fissare lo sguardo su di lei per riprendere sotto la sua materna protezione il cammino lungo i sentieri del tempo, il Papa ha evidenziato la funzione speciale della Madre di Dio. Si pone tra suo figlio Gesù e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. intercede, consapevole che in quanto madre può, anzi deve, far presente al figlio i bisogni degli uomini, specialmente i più deboli e disagiati. E proprio a queste persone era dedicato il tema della giornata mondiale della pace. Sentiamo. Desidero ancora una volta farmi voce di questi nostri fratelli e sorelle che invocano per loro futuro un orizzonte di pace. Per questa pace, che è diritto di tutti, molti di loro sono disposti a rischiare la vita in un viaggio che in gran parte dei casi è lungo e pericoloso. Sono disposti ad affrontare fatiche e sofferenze. Per favore, non spegniamo la speranza nel loro cuore. Non soffochiamo le loro aspettative di pace. Guardare ai migranti con un atteggiamento contemplativo, come quello che Maria ha avuto nei confronti del figlio. È stato questo l'invito del Vescovo Alberto Tanasini nella celebrazione presieduta in cattedrale nella solennità di Maria, Madre di Dio, giornata mondiale della pace. Citando il messaggio del Santo Padre per questa occasione, il Vescovo ha invitato a riconoscere i migranti come uomini e donne in cerca di pace e desiderosi di essere accolti, con un atteggiamento positivo, in grado di riconoscere i limiti e la possibilità di un'accoglienza davvero improntata al bene comune, fissata sul massimo e non sul minimo. Monsignor Tanasini ha quindi ricordato i quattro verbi che Papa Francesco ha voluto porre come indicazione per tutti, accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Nel corso invece della celebrazione del 31 di gennaio, con il canto di ringraziamento del Tedeum nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Chiavari, lo sguardo del pastore della diocesi si è spostato sull'anno appena concluso, sia dal punto di vista ecclesiale che dal punto di vista civile. Dal punto di vista ecclesiale, l'anno appena trascorso si è caratterizzato per l'avvio dei cosiddetti tavoli, il percorso sinodale di lavoro che mira dare un nuovo volto missionario alla Chiesa. Il Vescovo lo ha sottolineato, celebrando l'Eucarestia nell'ultimo giorno dell'anno nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. È un impegno serio e diffuso, ha detto Monsignor Tanasini, ringraziando per le molte persone che hanno preso a cuore questo cammino, di cui forse non c'è sufficiente consapevolezza, ha aggiunto, e il cui traguardo sarà quello di dare alla Chiesa diocesana modalità di vita pastorale efficaci. E questo comincia dal prendere più sul serio il Vangelo, non darlo per scontato nella nostra vita. Desidererei che ci fosse un'attenzione e un'attesa da parte di tutti. E la mia speranza è quella che alla fine del lavoro ci sia proprio quel frutto di cui ho parlato. Ma l'anno si è caratterizzato anche per il diffondersi di una mentalità individualista, tanto sul piano ecclesiale che civile. Questo tocca anche il nostro modo di vivere la Chiesa, ha detto il Vescovo, quando distinguiamo ciò per cui ci troviamo concordi e ciò che invece ci trova distanti rispetto al Magistero. Il Papa è sempre il Papa. I pastori sono sempre pastori. E hanno il compito di mantenere l'unità della Chiesa. Stiamo attenti a come pensiamo. Una mentalità forzatamente individualista, poi aggiunto, ha portato anche ad una scelta grave come quella relativa all'approvazione della legge sul Biotestamento. Mi permetto di entrare in questo argomento anche perché noi pastori siamo stati accusati di non pronunciarci e quindi in questo modo di accrescere la confusione. Io non sono qui a dire voi non dovete usare di questa legge, non dovete usare di questo strumento. Io sono a dire attenti, c'è modo e modo di usarlo perché la legge in sé è molto ambigua. Rifiuta l'eutanasia, ma nello stesso tempo offre gli strumenti per attuarla. E questo è contro la legge di Dio, perché la nostra vita non ci appartiene. Duplice l'invito del Vescovo. Il primo, tocca a noi, ha detto, riempire le decisioni della legge di Dio, naturale e rivelata, fornendo disposizioni coerenti. Il secondo, non essere superficiali nell'affronto della tematica. Monsignor Tanasini ha promesso occasioni di approfondimento sui contenuti della legge. Allora le mie disposizioni, se intendo darle, devono essere coerenti con la legge di Dio. È soltanto un invito ad avere il senso della gravità della cosa e l'impegno a valutarla rettamente, senza superficialità. Io credo che questo appartenga alla serietà della nostra coscienza, interessarsi e affrontare questi argomenti. Un capodanno all'insegna della neve è quello che ha caratterizzato la Val Daveto, dove restano aperti tutti i giorni fino all'8 gennaio, dalle 9 alle 16, gli impianti di risalita e le piste da sci del Monte Bue e del Prato della Cipolla. Stiamo vedendo queste immagini di questa discesa che sono state registrate proprio questa mattina al Monte Bue, dunque sugli impianti di risalita della Val Daveto. Immagini che ci testimoniano appunto questa bella giornata di sole che sta caratterizzando questo 2 di gennaio, dopo la veloce perturbazione che è passata proprio nel corso della nottata di Capodanno, e che appunto è passata e che adesso le giornate ci stanno regalando invece cieli terzi, giornate serene e dunque anche propizie appunto per gli sport invernali. Immagini davvero belle che ci sono arrivate proprio questa mattina dalla Val Daveto. Un inizio d'anno, dicevamo, particolare. È stato vissuto anche al rifugio delle casermette del Penna. Per la prima volta infatti lo scoccare della mezzanotte è stato festeggiato nella nuova struttura dove sono state ospitate persone provenienti da diverse parti d'Italia. Tanta la neve caduta che ha fatto da sfondo anche alla prima ciaspolata del 2018 e che fa sfondo, come dicevamo, alle discese anche in questa 2 di gennaio in Val Daveto. Siamo stati proprio alle casermette per questo primo gennaio, per questo Capodanno. Vediamo insieme il servizio che abbiamo realizzato. Un primo Capodanno alle casermette del Penna. Eh sì, è stata un'emozione. Penso che si è riuscito bene. Siamo felici per la gente che abbiamo avuto. C'è stata parecchia gente. Mi sembra sia andato tutto bene. Il contesto anche ci ha aiutato dalla neve. Da quanti anni non c'era la neve così tanto, nelle vacanze di Natale? È praticamente dal 2009-2010. E un po' da vari posti sono arrivati? Sì, la gente è arrivata un po' da tutte le parti, Parma, Vecenza, Genova. Sono arrivate addirittura gente da Gubbio e da regioni più distanti dalla nostra. Bellissimo, l'hanno messo a posto bene, ma poi sono veramente meravigliosi. Da dove arrivate voi? Io sono di Gatturna. E voi da dove arrivate? Da Gubbio, diciamo tramite un consiglio di amici, abbiamo visto poi su internet questo bellissimo rifugio. Per cambiare abbiamo deciso di venire qui, in montagna, in Liguria. Sembra strano, però è una parte sconosciuta che però adesso conosciamo e apprezziamo. Siamo in sette, arriviamo da Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. La prima volta alle casermette? Siamo passati per una merenda, diciamo, però per notamento la prima volta. Come vi siete trovati? Molto bene, le camere sono molto belle, nuove, spaziose, comode e poi abbiamo mangiato molto bene. In questo periodo quali altre iniziative ci sono per valorizzare il territorio? Adesso faremo un portante il giorno 5 della fiaccolata sul Monte Penna, che è una prima iniziativa che non si è mai fatta qui in Liguria. È un'iniziativa un po' valdottense, se vogliamo, trasportata in Liguria. Però spero che sia una bella cosa, che ci si diverta a vivere questa esperienza, di salire al buio, una retta del nostro penino e scendere con le fiaccole in questa suggestiva cornice. Le ultime ore del 2017 e l'inizio del nuovo anno sono state impegnative per il reparto di ostetricia dell'ospedale di Lavagna. Francesco, alla nascita 2,880 kg, è venuto alla luce alle 18.16 del 31 di dicembre. Poco dopo la mezzanotte è arrivato Federico, 3,435 kg, ad allietare il reparto che dunque si è adornato di fiocchi azzurri. Il capodanno si è tinto d'azzurro nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Lavagna, dove l'anno vecchio è stato salutato dalla nascita di Francesco e quello nuovo accolto dal vagito di Federico. L'ultimo nato del 2017 è arrivato alle 18.16 del 31 dicembre, in anticipo rispetto al termine atteso per il 9 gennaio. Ad accoglierlo papà Gabriele e mamma Paola, che ha scelto il parto in acqua. Sono arrivata qui, mi sono rotte le acque e mi hanno indotto il parto e è andato tutto bene, è nato questo splendore di bambino. Com'è stato questo capodanno all'ospedale? Insomma, bello, bello, direi il più bel capodanno che abbiamo passato. Gli abbiamo sempre passati in due, finora questo è stato in tre. Per poche ore l'abbiamo passato la mezzanotte in tre con Francesco. Poco dopo lo scoccare della mezzanotte sono arrivati all'ospedale Alberto e Valeria, genitori del piccolo Federico, che invece ha tardato di qualche giorno la nascita per entrare a pieno nel 2018. Il piccolo è venuto alla luce alle 2.22. Ci hanno detto che il suo numero è il 2 perché è iniziato alle 0.02, tra le espulsioni, diciamo, mezzanotte e due minuti e alle 2.22 è nato lui. È stato un parto tranquillo? L'hai assistito? Sì, sì, l'ho assistito. Pensavo di svenire, invece ce l'ho fatta. Però io non ho fatto niente, in realtà. La mamma è tutto bene, è stato intenso, ma ce l'abbiamo fatta. È il primo genito? Sì, 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 ci abbiamo pensato un po'. Però adesso è bello. Sì, perfetto. Sì, sì, sì. Un'esperienza da ripetere? Tra calma. Esatto, tra un po'. Il 2018 è iniziato sotto i migliori auspici. Alle 8.30 è arrivata anche la piccola Alice a ravvivare la nursery decisamente al maschile dell'ospedale di Lavagna con una nota di rosa. E torniamo a parlare del Capodanno con le diverse feste che hanno animato le piazze del Tiguglio. La pioggia non ha spento gli entusiasmi e non sono mancate le tradizionali iniziative di solidarietà come la zabaionata di Rupinaro a Chiavari dove sono stati raccolti i fondi per il villaggio del ragazzo. La pioggia non ha spento la festa per l'attesa e l'arrivo del nuovo anno. Tante persone, ombrello alla mano e a tratti anche sopra la testa, hanno aspettato lo scoccare della mezzanotte in piazza lanciandosi in un brindisi collettivo che ha accolto in allegria all'inizio del 2018. Fuochi d'artificio sul lungomare a Rapallo, così come a Portofino dove dopo 17 anni è tornato il Capodanno in piazzetta. Veglione l'ha aperto anche a Santa Margherita Ligure, Moneglia e Seste Levante e qui si è ballato grazie all'organizzazione della Croce Verde. Brindisi sotto la pioggia con gli ombrelli aperti a Chiavari in piazza Mazzini, Veglione all'insegno del cabaret con i pirati dei Caruggi e dopo un immancabile appuntamento con la zabaionata di solidarietà preparata in piazza San Giacomo di Rupinaro dagli ommi dei Ruinà. Quest'anno abbiamo avuto come sempre una grande partecipazione di pubblico, siamo veramente contenti della partecipazione. L'impegno è sempre in ricordo di Don Nando? Certamente, certamente, per le opere della Quarone organizziamo questo evento da 27 anni, sempre con entusiasmo e vedo che il pubblico, la gente è contenta di partecipare. Quali novità di quest'anno? Le novità di quest'anno sono una novità sostanziale. Abbiamo raddoppiato le macchine utili per fare lo zabaione e anche per aiutare per la cioccolata. Questo ha reso tutto un po' più facile e siamo riusciti a star dietro alla richiesta, peraltro molto importante quest'anno che fa piacere, senza difficoltà. Negli anni scorsi eravamo più in affanno in questi momenti. C'è meno coda, molto meno coda, molto meno coda. Comunque gli auguri partono sempre da qua, l'impegno anche. Assolutamente, auguri a tutti, buon 2018, buon zabaione, buona cioccolata, buon tutto. È stata riaperta nel primo pomeriggio di ieri la provinciale 58 per San Maurizio di Monti a Rapallo, dove nella notte fra il 31 e il 1 di gennaio un masso di grosse dimensioni era caduto sulla carreggiata impedendo il passaggio delle autovetture. Il fatto si è verificato al chilometro 13 e 700 in un punto particolarmente stretto. Il masso è stato rimosso grazie all'intervento di numerosi operatori. Oggi sono in programma ulteriori operazioni di bonifica, anche se la strada che collega Rapallo a Montallegro e Coreglia Ligure attraverso il passo della Crocetta è attualmente percorribile. È stata riaperta ieri sera anche la strada comunale Croce-Costa-Secca, interessata da una frana che ha invaso la carreggiata. La riapertura è stata possibile grazie all'intervento di una ditta ardesiaca locale. Anche in questo caso l'amministrazione comunale di Orero è in programma di effettuare un nuovo sopralluogo sul posto per verificare lo stato del movimento franoso. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in Edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola, ripartiamo dalla pace. Papa Francesco qualunque vita va amata sempre e non spegniamo la speranza di chi emigra. Ha sotto il monte migliaia la marcia di Pax e Cristi per chiedere un sussulto delle coscienze. Ricchiuti, la guerra è pura follia. E a proposito, lavoro e concretezza priorità anche per le elezioni. Discorso di fine anno, i nuovi ragazzi del 99, grazie, ora ci ascoltino. Il commento di Alessandro Rosina, il paese senza chiama la politica. Parlavamo di immigrazione, parlava il Papa nel suo messaggio per la pace. Il salvataggio di Capodanno, 300 migranti raccolti in mare. Libia, le partenze di Capodanno, primi salvataggi in mare del 2018. Immigranti raccolti davanti alle coste, il flusso non si ferma. Oltre 300 profughi tratti in salvo il primo giorno dell'anno, attesi altri viaggi della speranza. E siamo sul secolo XIX. Anoressia in Liguria, l'età scende. Allarme per i blog nascorsi sui social. Tra le adolescenti diventa una moda. Disturbi alimentari in Italia, 3 milioni i casi. La rivolta del velo nell'Iran in fiamme. Proteste e 12 morti. Arrestata anche la paladina anti-Ijab. Masso blocca la strada dal Cenone con la funivia. Stiamo parlando di Rapallo, clienti sulle auto dei ristoratori. Disagi per raggiungere Montallegro e San Maurizio. E sempre Rapallo, domenica, ultimo giorno dell'anno. Schianto in moto, gravissimo un uomo di 28 anni. E vediamo nel Tiguglio. Migliaia nelle piazze. La pioggia non ferma il brindisi del 2018. Capodanno senza problemi. Solo una diciassettenne al pronto soccorso per una lieve ustione. La pioggia non ha spento le feste di piazza. Successo della zabbaglionata a Chiavari. E ancora dal secolo XIX, il 2018 sarà l'anno di elezioni comunali. A Sestri Levante. Al voto per scegliere il nuovo sindaco. Cinque anni fa Ghio era stata eletta al ballottaggio con il 60-84% dei consensi. Nel 2013 il centrodestra si era spaccato in due e il Movimento 5 Stelle era al suo debutto. Altro comune che andrà al voto è quello di Camogli. Olivari Maggiori un derby per le elezioni a Camogli. Il primo cittadino uscente per ricandidarsi deve battere la concorrenza del presidente del Consiglio Comunale. I gruppi di centrodestra si starebbero coagulando attorno alla figura di Giovanni Cichero. Prima di andare in redazione la politica amministrativa andiamo sul nostro sito teleradiopace.com. Marco Conti, consigliere di minoranza del gruppo Popolo per Sestri, ha trasmesso la documentazione riguardante gli affidamenti dei servizi del 2017 da parte dell'amministrazione comunale all'autorità anticorruzione e alla procura della Corte dei Conti per chiedere opportune indagini. Secondo il parere del consigliere di minoranza, infatti, Mediaterraneo, la società a cui il Comune ha affidato la gestione di tutti i servizi turistici pubblici dal Musel al Bike Sharing, dallo sportello di informazione turistica alla rete Wi-Fi, sarebbe un inutile carrozzone. I servizi affidati alla società pubblica andrebbero viceversa sostenuti dagli uffici comunali oppure rivolgendosi al mercato. Conti ha inviato una sua nota facendo seguito al resoconto di fine anno reso noto dalla stessa Mediaterraneo che ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi per oltre un milione di euro. L'amministratore unico Marcello Massucco ha messo in luce come gli affitti riscossi dalla società abbiano portato nelle casse comunali oltre 177 mila euro. Per il prossimo anno sono previsti investimenti per ampliare la rete Wi-Fi e per migliorare le sale dell'ex convento dell'annunziata di Palazzo Fasce, i portali web e l'archivio storico comunale. Verranno acquistate nuove biciclette per il Bike Sharing, servizio che dal 1 gennaio verrà autofinanziato senza più intervento da parte del Comune. Sempre quest'anno Mediaterraneo inizierà ad affittare gli spazi pubblicitari posti sull'arredo urbano cittadino. Per il prossimo triennio le funzioni di vigilanza e revisione contabile verranno svolte da Sebastiano Bolla-Pittaluga. Altri aggiornamenti dalla redazione. Per noi Andrea Capitani. Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti. Ancora auguri la cronaca perché resta ricoverato in prognosi riservata al Policlinico San Martino di Genova il giovane di Rapallo rimasto vittima di un incidente sabato mattina intorno alle 5, poco distante da casa, a Santa Maria del Campo. Il vento tenere in sella alla sua moto quando probabilmente a causa dell'asfalto vicido è caduto a terra. Si chiama Gianmarco Briata. È stato soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i volontari del soccorso di Sant'Anna e i carabinieri di Santa Margherita Ligure che hanno constatato come nessun altro veicolo fosse rimasto coinvolto nell'incidente. Il giovane la sera è stato trasportato all'ospedale San Martino di Genova dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Attualmente è ricoverato in rianimazione. Gli amici e i conoscenti di Santa Maria del Campo questa sera alle 21 si ritroveranno in chiesa per un semplice momento di preghiera per lui nella chiesa parrocchiale. E tu date la linea. Grazie. Buon pomeriggio a tutti.